Per la ricostruzione nei crateri post-sisma è necessaria una proroga del super bonus 110% di 4 anni che riguardi anche case unifamiliari. A chiederlo a Governo e Parlamento è il commissario straordinario per il sisma 2016-2017 Giovanni Legnini che auspica una modifica per le proroghe relative agli edifici unifamiliari e bifamiliari. La necessità nasce dal fatto che nel catere 2016 in particolare sono 60.000 gli edifici da ricostruire e la maggior parte case unifamiliari. L'attuale proroga rischia di scudere molti cittadini che potrebbero trovarsi costi aggiuntivi anche del 30%. Peculiare poi la situazione degli aggregati per i quali l'accesso al bonus con limiti di reddito andrebbe a compromettere a rallentare un processo ben avviato. Una proroga piestesa invece consentirebbe una ricostruzione più veloce e sostenibile e darebbe anche maggiore impulso alle imprese a lavorare nel cratere. La possibilità di usufruire del super bonus e concatenarlo, non uso a caso questo termine, insieme al contributo della ricostruzione, può dare un'accelerazione ancora maggiore al sisma del 2016, evitando accolli per i cittadini e problemi per le imprese al netto dell'aumento dei materiali che stiamo riscontrando in questi giorni. Il presidente Cicchetti però va oltre questo discorso e lancia un allarme serio sui prezzi dei materiali edili. Questo rischia di rallentare i processi di ricostruzione perché ci sono cantieri fermi e altri in affanno per questo motivo, soprattutto per la ricostruzione 2009. Il problema è diventato, oserei dire, devastante. Ci giungono notizie di cantieri che non iniziano, benché ci siano i contratti firmati, cantieri che rallentano in maniera preoccupante. Essendo un problema strutturale, la risoluzione e la definizione non è solamente del nostro Paese, siamo notevolmente preoccupati. Questo potrebbe avere un'incidenza notevole, soprattutto sulla ricostruzione 2009, su quel che ne rimane, e sulla partenza decisa del 2016 che aveva dato segni molto importanti. Grazie.